Il 31 gennaio si venera a San Giovanni Bosco e per l'occasione, l'atelier Carlo Bossone, in corso moneta a Domodossola, ospita martedì 30 e mercoledì 31 gennaio un ritratto del santo a opera di Carlo Bossone. Si tratta di un olio su tela datato 1946. Abbiamo avuto la gentile concessione da parte della parrocchia di San Carlo a Vanzone con San Carlo, che ne è proprietaria, di fare questa esposizione speciale. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.